Musica 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 Mi chiamo già da Stortamella, prevento il quarto anno all'ITIS, indirizzo chimico, ho 17 anni. Principalmente ho tante passioni, però se devo dirne una quella mi caratterizza di più è la musica. Credo non ci sia cosa migliore per esprimere i nuovi sentimenti, gli stati d'animo al di fuori della musica, insomma. E con musica intendo scrivere, parlare, ascoltare e tant'altro. Credo che la mia passione per la musica sia dovuta al fatto che non mi vede scoprire sangue brasiliano. E tutte le volte vado lì, è tutto un continuo di ascoltare nuovi suoni, nuovi generi, 24 ore su 24. Lì ad esempio a quest'ora stanno ballando solamente, perché ogni giorno è festa, pensano a divertirsi e basta. Stare davanti a un abitore e s'infiare la vita poi. E sicché mi sento molto legato alla musica e la musica la ricollego ai Brasile. Principalmente il mio genere di musica che ascolto è il rap, però mi capita di ascoltare quasi tutti i giorni un genere diverso musicale. Dalla musica classica alle varie musica moderne ci sono fortuna. Mi ritrovo però di più nel rap, diciamo, perché per me il rap è come una poesia. Riesco, diciamo, a combinare la musica e le parole in modo migliore con altri generi. Mi capita spesso la sera di trovarmi a scrivere su quello che è successo durante la mia giornata, sui sentimenti che ho provato, le emozioni. E questo fatto mi piace molto perché con la scrittura riesco a trasmettere qualcosa e magari parole non riesco. Nel tempo libero mi piace ritrovarmi con gli amici e andare a fare dei tirati al canestro. Ho praticato questo sport da tanti anni, ho smesso da poco ma non finirò mai di tirare al canestro. Attraverso questo sport riesco a sfogarmi. Poi il basket lo ricollego parecchio alla musica e in particolare alla musica rap per l'appunto. E quindi più per due l'anno d'accordo.